Se io sottoscrivo un fondo pensione azionario... Il 26 si terrà un convegno importante, quali sono le ragioni e lo scopo di questo convegno? Le ragioni e lo scopo di questo convegno naturalmente sono perché vogliamo informare i nostri clienti, i nostri soci sull'importanza di avere una previdenza complementare oltre alla previdenza pubblica. Tutti quanti sappiamo quanto oggi sia difficile contare sulla previdenza pubblica per mantenere un tenore di vita nei prossimi anni in linea con quello che si è avuto durante l'età lavorativa per cui il nostro obiettivo è dare comunicazione ai nostri soci e ai nostri clienti sull'importanza di questo fatto. Iniziare fin da giovani è fondamentale, bisogna farlo per avere a disposizione poi quando si sarà in pensione una previdenza, un'integrazione alla pensione pubblica. Chi sono i relatori del convegno? Avremo la nostra SGR, BCC Risparmio e Previdenza, con la quale collaboriamo chiaramente da molti anni. Inoltre avremo un avvocato, Alessandro Bugli, che collabora con noi su queste problematiche. Il convegno si terrà al Tagotel a Bellocchi il 26 di ottobre alle 17.45 per iniziare poi alle 18.00. È possibile partecipare per chiunque, è necessario registrarsi in quanto abbiamo a disposizione una sala chiaramente e quindi i posti non sono illimitati. Quindi chiunque vuole partecipare è sufficiente iscriversi tramite il nostro sito internet piuttosto che telefonare a qualsiasi nostra filiale.